miei padawan bentornati per un nuovo episodio avete chiesto in tanti quando analizziamo il trailer di knobby siamo al 6 maggio uscito il 4 dello star wars day me before view quindi due giorni dopo ci siamo abbiamo questo trailer che finalmente ha iniziato indirizzare un po quello che andremo a vedere come verrà narrata la storia e ho qualche ipotesi soprattutto riguardo il percorso che vedrà il nostro ben kenobi nella sua avventura non si sente il bot sì è vero perché c'è l'audio abbassato ed effettivamente avevamo leonardo che diceva è tanto tempo non so cosa dire mi fa tanto piacere e c'erano i tre cuori mentre già babbe jack si è abbonato per 15 mesi nel frattempo ne approfitto che il bot mi ricorda source shark vpn economica ma di qualità che vi protegge in ogni caso con il codice sconto capo rosso avete l'ottantatré per cento di sconto tre mesi gratuiti è facile anche da cambiare ip è facilissimo da utilizzare siete su tatooine siete nel deserto come b1 anche da lì potete accedere per l'appunto facilmente a qualsiasi promozione anche qui in italia o su detto ciò io effettivamente di questa serie avevo già messo dei diciamo delle intuizioni degli indizi su dove sarebbe andato a parare e con questo nuovo trailer noi abbiamo visto qualcosina abbiamo anche ascoltato un'intervista di iwan mcgregor in cui per l'appunto parlava del nuovo canon della difficoltà se vogliamo o del bisogno di far coesistere vari format e ha detto una cosa però non ha detto il format ad esempio letterario format fumettistico ha detto se un evento avviene nel videogioco dobbiamo ottenere tenerlo in considerazione anche per la serie live action il videogioco non ne sono usciti molti da quando la lucasfilm è stata acquistata da the world disney company abbiamo battlefront 1 battlefront 2 e squadrons ma squadrons avviene dopo questi eventi di obiwank 9 quindi non ci interessa battlefront 1 non ha la campagna battlefront 2 la campagna avviene dopo gli eventi di episodio 6 ritorno dello jedi quindi a che cosa si riferiva per l'appunto l'unico videogioco ambientato quattro anni prima della serie quindi star wars jedi fallen order che per l'appunto è ambientato nel 14 bby grazie mille per il nuovo abbonato grazie davvero e adesso abbiamo anche dietro le quinte diego grazie grazie a tutti e parlando proprio di ordine torniamo a quello che vi stavo dicendo di jedi fallen order perché ua mcgregor ha detto sì dobbiamo tenere conto delle informazioni dei videogiochi però solo uno è avvenuto in quell'anno jedi fallen order e che cosa avviene nella fortezza dell'inquisitorio c'è una battaglia abbiamo gli inquisitori seconda sorella triglia ma soprattutto darth vader che combatte sire e calcestis e tutto avviene quattro anni prima della serie Obi-Wan Kenobi sul pianeta sulla luna nur che per l'appunto è un satellite del pianeta mustafar dove c'è la fortezza dell'inquisitorio quindi io credo che i uom mcgregor quando ha risposto a questa intervista intendesse ciò vedremo la fortezza dell'inquisitorio ma terrà conto di alcuni elementi visti nel videogioco non so quanto questo influirà quali informazioni potrà darci però credo ci sia qualche elemento comunque ricorrente a me piace quando i videogiochi citano le serie animate e vengono recitati poi nel nelle serie live action diego volevo un po sapere intanto la tua sul nuovo trailer siete piaciuto che cosa si è colto in il tuo interesse in modo particolare qualche scena non ho avuto una relazione così incredibile soprattutto in merito all'ultima scena subito salto subito avanti sicuramente perché ho visto che molti si sono emozionati per quella scena dicono che cosa succede in quel momento ma secondo me c'è un presente l'inguadatura solo di Obi-Wan e poi intanto vediamo vader che viene tra virgolette costruito probabilmente nella vasca finisce il bagno nella vasca esatto e lo sembrano e c'è quel scambio di inquadratore dove sembra che stanno cioè sembra che quasi un incontro molti ho visto che l'ho interpretato qui secondo me quello è un gioco di montaggio ma sono assolutamente due scene diverse quindi su questo io ho avuto subito quell'impressione però non so ho visto che molti invece hanno fatto anche appunto dei parallelismi colgo la valla al balzo con la scena di Jedi Fallen Order in cui c'è Cal e Sir che si trovano davanti di Darth Vader e quindi c'è stata questa scena dove loro sono tutti hanno paura cioè creano una certa intimidazione no però secondo me quelle sono due scene diverse è un il classico gioco di montaggio che si fa in un trailer di mettere la stessa cosa che si faceva in episodio 8 anche con la scena tra Kylo Ren e Leia per esempio quindi ecco poi a parte quella scena finale diciamo il trailer mi ha incuriosito io su questa serie ancora sono alla ricerca del plot di cosa succederà comunque resto curioso per la serie soprattutto per vedere come è impostata rispetto alle altre serie io me l'aspetto un pochino più cinematografica però spero che non sia un film anacquato ma spero che sia una magari strutturata a miniserie secondate però bella intensa e magari in un livello alto ecco mi aspetto un livello alto come produzione io ho due teorie poi riguardo a questo mi collega un attimo a quello che hai detto tu del montaggio che anche io ho avuto la forte impressione che Darth Vader lo stiano assemblando per l'appunto nella sua stanza perché come sappiamo lui non ci tiene tanto a farsi vedere debole quindi non avrebbe senso davanti alle sue truppe farsi vedere che lo stanno assemblando perché un momento di debolezza per un Lord Sith non è bene farsi vedere così lo fai nella tua stanza da solo poi esci però ho il sentore che quella scena comunque di Obi-Wan nonostante non si veda ma ci fanno capire guarda sono al faccia a faccia Obi-Wan si è stato catturato mi sembra un corridoio quasi imperiale con dietro delle truppe si scorce poco però ho notato quello e dall'espressione che fa secondo me è il momento in cui capisce che Anakin è vivo e che sta arrivando in qualche modo c'è questa espressione che è molto simile a quando Asoka nella serie animata Rebels sente la presenza di Anakin il mio maestro ancora vivo quella mentre stanno nel cacciata è esatto bravissimo l'apprendista vive è entrambi che riescono a sentirsi io Obi-Wan ha quello sguardo che mi ha ricordato tantissimo con la scena quindi non credo che sia un faccia a faccia ancora ma che Obi-Wan stia dicendo ok cosa succede perché sento la presenza del mio apprendista del mio amico Anakin quando è morto dieci anni fa e poi da quel momento magari si apre il portellone scende Darth Vader io mi aspetto qualcosa di questo tipo cioè che effettivamente lo stiano assemblando da qualche parte nella sua stanza poi pubblicamente Obi-Wan l'abbia percepito che è vicino e non capisca non comprenda mentre per il plot e per la trama tanto salve signor Giacomo buonvenuto grazie mille per essere qui tra noi per ascoltarci in questo approfondimento diciamo stiamo cercando un po' di capire il plot dove andrà per l'appunto a svilupparsi e io qualche idea ce l'ho ovvero le prime due puntate li vedo su Tatooine prima puntata e mezza ci presentano un po' tutto e come è Tatooine quello che sta accadendo come vive Kenobi quindi un riassunto un pochettino più veloce del romanzo di John Jackson Miller se vogliamo anche della serie canon a fumetti ci presentano Zio Owen che già abbiamo visto dal trailer e poi andremo a approfondire quella frecciatina che dà Kenobi presa dai fumetti tuttavia arriveranno gli inquisitori per un motivo perché arrivano gli inquisitori e continuo a pensarci io credo che l'unico modo di nuovo per far andare via dal pianeta da Tatooine dal suo obiettivo che è proteggere Yook Obi-Wan è proteggere Leia quindi quello che lui crede sia quello che Yoda crede sia un'altra delle speranze la maggiore delle speranze come fai a scoprire questo? mandano forse un altro Jedi? mandano qualcuno legato a Bail Organa? gli inquisitori fanno ok andiamo a vedere scorgono come diceva nel primo trailer dei piccoli particolari non so se sia davvero un Jedi o seppure uccidono una persona convinti che lo sia magari in realtà è Obi-Wan però ecco che arrivano e lui a un certo punto dice a Owen ok io devo andare proteggerò tu state nascosti perché qui stanno comunque guardando però quando arriverà il momento che io tornerò dovrà essere addestrato ragazzo e da qui la frase come hai fatto con suo padre che tra molte virgolette è tipo dire sì come nel fumetto quanti Skywalker vuoi uccidere ancora? perché zio Owen è convinto che Anakin sia morto su Mustafa esatto sì io quindi credo questo sia il punto di partenza e poi da qui ci sposteremo su Odaiu questo nuovo pianeta che si è visto ancora poco però a me piace l'hanno descritto nell'intervista come una sorta di Hong Kong che riuscirà a implementare la cultura asiatica verso Star Wars non so se tu Diego hai colto qualcosa di più una Coruscant asiatica mi è parsa sì 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 è vero è vero si nota questa statica un po' Tokyo tutti questi led cioè che appunto è simile a Coruscant però allo stesso tempo effettivamente ti dà un po' il distacco tra occidentale e orientale non so che cosa sarà saranno le forme un po' più arrotondate pure dei led dei vicoli fatti in un modo diverso rispetto a Coruscant diciamo che a una prima occhiata può sembrare può sembrare uguale molto simile però effettivamente guardando meglio c'ha quel quel pizzico di caratterizzazione differente sembra anche fatta molto bene adesso non so se quanto è CGI quanto è set ricostruito quanto è il volume quello che usano però sembra dalle riprese rendere molto bene proprio a un livello pure abbastanza cinematografico mentre Newt domanda in un eventuale duello tra Hobie e Vader secondo voi cercheranno di riproporre una coreografia più simile possibile a quella dei prequel oppure opteranno per quelle più terra terra viste nella trilogia sequel allora per me è una via di mezzo detto ciò però io vorrei che fosse coreografata perché comunque abbiamo visto già nel trailer che poi mi collego infatti sempre alla domanda diciamo di chiara cioè alla notazione c'è un pezzetto del trailer in cui sembra essere in un carcere e picchia come un fabbro in stile Batman e questo infatti c'è Obi-Wan Diego c'è anche lo Zabra che lo prende lui si divincola sta combattendo quindi vederlo combattere così in corpo a corpo in corpo a corpo statico con la spada laser secondo me è un po' in contrasto tu Diego a riguardo cosa dici invece? allora secondo me una cosa che non manca mai in queste pure per esempio in The Mandalorian così secondo me alle coreografie ci fanno abbastanza estensione sono molto bravi mi viene in mente il duello di Ahsoka con la governatrice di quella città di cui mi sfugge il nome però Corobus il pianeta la città non mi ricordo la città forse non aveva nemmeno comunque cioè probabilmente si ha un nome però è una cosa da Bebots comunque diciamo che perché ho citato quello perché come sappiamo il duello di episodio 4 era frutto sì ok di un voler citare magari Kurosawa eccetera eccetera ma di limitazioni tecniche proprio imposte e materiali con cui le hanno fatte le spade che erano molto fragili dovevano stare in una certa angolazione per riflettere la luce eccetera eccetera mentre nella trilogia già nel nel 5 e nel 6 era tutta un'altra cosa nella trilogia prequel era era proprio addirittura li dovevano rallentare perché erano velocissimi loro nel fare l'istante io diciamo secondo me come ha detto una via di mezzo nel senso che probabilmente vedremo tante citazioni che a Coroia a cui piace fare penso a Maul e Savace contro Darsidius che c'erano tantissime citazioni di movimenti storici dei personaggi no? e anche lo stesso scontro tra Obi-Wan e Maul e Rebels c'erano citazioni di episodio 1 quindi io mi aspetto citazioni al loro duello in episodio 3 sicuramente qualche scena che proprio tu la vedi e dici è quella cioè deve essere veramente che tu la guardi e fai ok sì hanno fatto la stessa cosa di episodio 3 e poi magari dei momenti più statici dove stavolta si può citare Kurosawa non per limitazioni tecniche ma per per vera propria citazione e allo stesso tempo citi anche episodio 4 perché dici ok stanno rallendo un minimo come episodio 4 quindi una cosa un po' più matura meno acrobatica ma comunque non sicuramente episodio 4 dove si davano quei colpetti purtroppo era così sì perché abbiamo comunque a livello poi di lore un passaggio importante ovvero che Nobi ricordiamoci episodio 3 usava il sorriso ma era ancora molto dinamico aveva ancora molto l'influenza della forma 4 della Taro e lo stesso era per Anaki che saltellava eccetera non aveva ancora la componente cibernetica a rallentarlo a comunque dover fare una forma 5 leggermente impostata in base al suo nuovo corpo che pesa pesa tanti chili lo rende più artificioso muoversi gli fa una forma 5 con una mano sola giusto una mano usa la forza anche il rock one si vede esatto modificata però per passare da lì a quella forma di rock one o se vogliamo anche in rebels per quanto riguarda per Obi-Wan c'è un passaggio perché Obi-Wan in rebels contro Maul è un sorriso molto calcolato cioè lui arriva la forma va attacca poche mosse ed ecco la massima offensiva cioè sa come difendersi e sa come colpire abbiamo quindi entrambi i personaggi che li abbiamo visti in episodio 3 dovranno essere più maturi di episodio 3 quindi meno movimentati come tu hai detto meno acrobatici la Tarui credo che sia scomparso da entrambi gli stili perché io Vader che fa le capriole eccetera ne lo vedo poco sono 500 kg di armatura che si porta dietro ok la forza però rispetto da Anakin che faceva quei salti ne lo vedo poco anche perché l'ultimo salto gli è costato gambe braccia e le bruciature ostioni su tutto il corpo quindi basta basta ma poi lo stesso Obi-Wan non ce lo vedo tanto già lui era un po' meno esibizionista di Anakin secondo me questa è appunto con la maturazione come hai detto era un soreso matematico nel senso che è super efficace come si direbbe nei pochi ma cioè lui si studia si studia tutto con Maul ed è letale e era un prodigio anche per quanto riguarda il collegamento col 4 perché per quanto fosse limitato il duello col 4 dopo tutta questa spiegazione di lore tu effettivamente facevi certo però che in effetti l'episodio 4 Ben è molto sulla difensiva è solo dei colpi quindi quello l'avevano anche fatto vedere bene c'è un altro elemento poi che sempre mi fa pensare al fatto che saremo molto più lenti molto più diciamo limitati rispetto ai prequel ovvero Darth Vader dà la sua il peso dell'armatura però lui combatte sta combattendo va a caccia di Jedi comunque lavora per l'impero dall'altra parte abbiamo Obi-Wan che è vero che non ha il peso dell'armatura ma è invecchiato di 10 anni anche lui e poi sono 10 anni su Tatooine che non è facilissimo ma sono 10 anni in cui effettivamente non combatte con la spada laser non si mette a fare i salti per farsi notare che non c'è di no è molto tranquillo quindi le sue abilità è normale che abbiano subito diciamo soprattutto quelle della Taro abbiano subito o un rallentamento comunque non sia così più abituato ad usarle e quindi me lo immagino più statico più veloce in corpo a corpo ma non con i salti sì sì posso dire una cosa secondo me come mi hai fatto venire in mente dicendo che non combatteva da tanto tempo la spada laser sicuramente secondo me ce la fanno sudare la spada laser di Obi-Wan in questa serie già che già che vedi delle sequenze corpo a corpo e delle sequenze col blaster ti fa capire che lui la spada laser sarà come Kenan all'inizio di Rebels che ha visto sempre la blaster ce l'ha addirittura smontata vabbè perché la sua si smonta e a un certo punto fa la scena fierissima che la attacca e la accende però secondo me anche Obi-Wan in questa serie sarà così la doserà molto io livello di teorie ti dico secondo me proprio così la butto lì fino all'episodio 4 fino al quarto episodio della serie non vediamo non vediamo usare la spada magari vediamo la spada posso essere d'accordo posso sì tipo che la guarda magari hai presente il momento del primo Iron Man magari un'altra volta quando c'è Rudino secondo me potrebbe che la guarda un po' ci pensa ai famigli qualche flashback così magari esclusi flashback magari effettivamente durante le guerre eccetera lì sì però nella linea temporale temporale attuale ce la mostrano perché se lui se ne va da Tatooine dobbiamo capire che c'era dietro quindi magari magari la prende tipo pistola del cowboy che se la prende si fa vedere che se la mette se la attacca e tu ti fai la spada però poi no come hai detto tu infatti che magari fa non so sta andando ma sì questa la prendo per sicurezza se la mette dietro se la porta con sé e poi per un po' non la usa mentre anche perché cioè esatto no diciamo tutto il misticismo la spada laser e la vita ci possono giocare molto con quello Newt diceva diciamo chiaramente se nella serie non dovesse esserci una scena con il leggendario Hell of Air ne saremmo tutti profondamente delusi io ci sarà di sicuro anzi io credo che il signor Giacomo e Devots l'altra volta hanno proposto un ottimo inizio cioè potrebbe essere una sorta di riassunto con il classico inizio della sigla che vediamo su Disney Plus con sotto eri mio fratello dovevi distruggere i siti non alleati a loro e quello sarebbe perfetto poi a un certo punto io penso Tatooine magari vediamo un pochettino Luke prima di Obi-Wan la prima entrata che fa col cappuccio è l'over ma per forza che per la prima di episodio 4 noi sottotitamente con la trattamenta di Italia no abbiamo due frasi diverse tra quello e quella con Gripus poi l'inglese è l'other in effetti quindi esatto in tutto tra l'altro perché anche in Battlefront 2 quando si personaggio è l'over cioè l'anno ormai è marchio il marchio quindi è parlare di mezzo marchio e meme che comunque è grandissime no perché effettivamente del personaggio cioè ormai è come togliere secondo me è una sua caratteristica quindi non è esattamente come togliere effettivamente il respiro di Vader perché quello non puoi togliere o se no proprio dici ma c'è qualcosa che non va è muore è esatto muore sei l'apnea pensa che si nasconde deve stare nascosto poverino e non far sentire un casino per lui ragazzi è problematico a condare in effetti era bello il battito proprio quando combatteva con Luke sulla città delle nuvole perché tu non lo vedevi però sentivi perché noi ci stavendo doveva respirare per dire inquietante perché effettivamente sarà più forte di Luke bellissimo qui pari pari non dovrà nascondersi vede perché se no arriva Obi-Wan comunque l'ultima volta gliela date qui credo sono concorde con Giacomo e con Giovanni che effettivamente dissero ma potrebbe esserci che è la prima volta che Nobi rimanga ferito e la seconda invece si prende la sua rivincita ci sta anche per fare un pareggio e poi una rivincita io li vedrei bene due scontri in questa serie tra loro diciamoci la verità noi tutti adesso ci siamo rassegnati ormai a questo a questo scontro di loro che fino a un po' di tempo fa quando ancora non c'è stata una serie no ma non si dovranno rincontrare perché c'è un po' di trama con i visori 4 eccetera eccetera adesso ci auguriamo semplicemente che metaforicamente uno si ancora in allievo e l'altro il maestro se almeno fai guadrare quella frase magari si scambiano qualche battuta e soprattutto che ci dicano perché Obi-Wan si chiama Ben Kenobi ma quello è un po' bisogna io quella un genio un genio un genio della sceneggiatura quella è molto interessante come è spiegata da John Jackson Miller che abbiamo già analizzato durante le dirette i mercoledì del romanzo me l'ho persa e lui alla fine dice parla con quei gon perché lui alla fine ha parlato con quei gon su polis massa insieme a Yoda quei gon ha risposto da allora quei gon non si è più fatto sentire ogni sera Obi-Wan si mette a parlargli il metodo che l'ha fatto con Yoda è lo stesso quindi a un certo punto capisce ok maestro io ti sto parlando tu non mi caghi perché sai che io non sono equilibrato nella forza sai che ho perso la speranza probabilmente quando sarò pronto mi dirai bravo hai superato la prova io comunque continuerò a parlarti perché sono certo che mi ascolti e infatti dovrebbe essere anche qui io credo che mi piacerebbe almeno che la serie finisse con Obi-Wan che ritrova la speranza la sua calma interiore il suo equilibrio finalmente e allora qua i gon alla fine che si fa sentire eccomi Obi-Wan ora sei pronto per apprendere il segreto dell'immortalità tac anche perché anche perché in effetti all'ultima di Rebels cioè nella puntata in cui si vede in Rebels tu hai l'impressione che lui sia tutto d'un pezzo cioè lui sta bene in quel momento nonostante sia anziana eccetera eccetera ci sta quindi lo han detto l'altra volta Giacomo e Giovanni che mi hanno fatto capire questa cosa perché la Kennedy disse nelle nostre serie di Star Wars cerchiamo sempre di mettere la speranza e io dissi per l'appunto ai ragazzi questa speranza qui non ce la vedo perché la nuova speranza sarà Luke episodio 4 ed effettivamente Giacomo e Giovanni mi hanno detto guarda che però potrebbe essere la speranza in Obi-Wan perché effettivamente dobbiamo arrivare a quell'Obi-Wan in pace con se stesso di Rebels e allora qui è venuto e ho detto ok hanno ragione ci sono i sei episodi di percorso arriviamo alla fine trova la serenità ecco Qui-Gon che torna a parlargli mentre nei dialoghi per il nome bene qui per l'appunto ho trovato questa casa sull'alto piano su quella che noi vediamo in episodio 4 solo che per l'appunto esatto nell'est dello Ulland solo che effettivamente si è chiesto ok è disabitata ma sarà di qualcuno per farlo ho dovuto andare su Bespin una piccola cittadina a guardare il catastro di qualcuno non è di qualcuno posso andare a vivere e guardando ha trovato tra i nomi degli affittuari Ben e ha detto ah che bello Ben comunque mi chiamava così perché anche Satin quando erano giovani lo chiamava così e quindi fa l'ho letto mi ha ricordato lei mi ha dato comunque gioia e speranza è un nome che comunque in qualche modo ci sono legato e l'ho scelto Ben per me anche nella serie per ricordare Satin dato che comunque vediamo la sorella Bo-Katan nell'altra serie live action sarebbe da sfruttare da rendere canonica questa cosa ma tu dici che lui si fa chiamare solo Ben e Luke sa che lui si chiama Kenobi perché comunque è crescito con gli zii magari loro in casa lo chiamano Kenobi eccetera eccetera o dici che lui anche nei dintorni magari è conosciuto come Ben Kenobi perché se fosse solo Ben in realtà avrebbe senso perché chi è quello è Ben senza nome tipo Han Solo Han si chiamavano ci sono due cose a riguardo sempre che posso dirti quella degli zii è un'ottima soluzione potrebbe essere perché effettivamente magari quando è arrivato su Tatooine si è presentato sono vivo anche Nobi questo bambino che vi sto dando è il figlio di Anakin Anakin ha tradito la repubblica è passato il lato oscuro l'ho combattuto è morto su Mustafar così crede Obi-Wan così crede lo zio così credono Lars per l'appunto finché non lo scopriranno si crede in questa serie perché non è chiaro quando quando Kenobi canonicamente scopra che Anakin è sopravvissuto diventando più macchina che uomo lui è convinto di averlo lasciato morire su Mustafar tant'è che nel libro di Jackson Miller lui tutte le sere fa no io ho lasciato morire Anakin poteva crescere poteva maturare di notte lui ha dei sogni in cui si sveglia gridando e fa ok so che ero Anakin ma la cosa strana è che ogni volta che faccio questo sogno vedo attraverso la maschera tipo di un Tusken ed è tutto rosso e lui non capisce capirà poi effettivamente che non è un sogno ma sta vedendo dagli occhi e non è una maschera di Tusken è una maschera di Tusken e sempre riguardo il nome Kenobi e il cognome qui l'hanno usato come scusa lui che parla con per appunto quei gongin di notte sappiamo che è un vecchio pazzo che parla da solo di notte in realtà parla con quei gongin e a un certo punto lui fa mi piacerebbe chiamarmi Kenobi l'intrepido sarebbe almeno mi lascio indietro il mio passato ma non riesco a andare avanti e c'è una ragazzina che sta origliando sente Kenobi lo va a dire al villaggio e in poco tempo dato che sono piccoli avamposti diventa ben Kenobi fanno ben Kenobi ah come si è tatuina è pieno di Kenobi soprattutto ce ne sono un po' un cognome abbastanza da quanto dicono comune lì e fanno ah ma sarà parente di quel ladro là ecco perché è un pazzo che vive da solo perché se i Kenobi sono tutti come lui potrebbe essere un'altra pure questa se la potrebbero pure questa se la potrebbero giocare nella serie di far vedere perché effettivamente noi cioè soprattutto il pubblico mainstream non ha accesso a questa informazione che su tatuina ci sono diversi Kenobi se già lo fai vedere qui in qualche modo magari non troppo esplicito però lo fai capire eccetera eccetera in qualche modo sarebbe carino comunque terminare mettere una piedra sopra su questa cosa e eliminare tutti i dubbi chissà vedremo sarebbe apprezzato volevo leggere un attimo qualche domanda tra l'altro ci siamo lasciati indietro come Elmo Asuero ha chiesto secondo voi mostreranno il volto di Vader visto la conferma del nuovo Aiden Christensen nel ruolo allora sicuramente noi lo vedremo nelle guerre dei croni nel flashback quindi Aiden Christensen sarà usato lì perché subito a logica eccolo l'abbiamo visto in episodio 3 l'abbiamo visto in una serie animata ecco che è perfetto rivederlo in quel modo come Darth Vader io non so se c'è veramente il bisogno di vederlo perché comunque nella teleogia originale si vede leggermente quando si toglie l'elmo da dietro la prima volta di spalle esatto di spalle poi lo vediamo sul finale in Rebels vediamo solo un occhio quando Sokka di spezza l'elmo quindi è davvero così che tra l'altro là che tra l'altro là i Rebels cosa strana che non mi sono mai informato poi se era un errore eccetera eccetera che aveva il sopracciglio lì anche ma sai qual è il problema lì? se tu guardi la versione quella che avevo in VHS la prima alla fine Vader ha le sopracciglia dopo Giorgio e Lucas quando ha fatto la rilezione le ha tolte e quindi poi ha fatto il prequel che non lo so non ho mai capito poi se le citazioni lì si era una citazione è vero perché in realtà cioè ai tempi probabilmente la fine di Vader non era previsto che si bruciasse quindi tutti quanti i capelli bruciati anche le sopracciglia se tu guardi nella lava non è che le sopracciglia sono ignifughe e quindi sì l'aveva tolte effettivamente l'aveva rimosse in digitale magari i Rebels si sono ispirati alla versione precedente ed è giustificabile secondo me con il Bacta perché se ci fai caso anche Boba Fett non ha le sopracciglia in Mandalorian va nel Bacta gli ricrescono magari il principio attivo del Bacta esatto il principio attivo del Bacta fa ricrescere non i capelli però le sopracciglia è l'unica che magari canonicamente la giustifichiamo così sì comunque per riprendere questa domanda anche un minimo minimo i Rogue One si vedeva al suo volto però non si vedevano bene le fattezze vedevi giusto il proprio forma degli occhi però ovviamente lì non era l'attore cioè non era Eden Christensen hanno evitato di farlo vedere in faccia qua hanno una doppia chance perché sicuramente nel flashback ci avremmo Anakin magari con con l'armatura di The Glow Wars come si vede in Battlefront 2 che effettivamente è fatto come l'attore reale più o meno che c'ha l'armatura di The Glow Wars che noi non gli vediamo mai all'attore e come Vader appunto sta a loro se lasciarlo è il mistero eccetera magari fare vedere un mezzo un tre quarti da dietro un profilo così giusto per far vedere che è lui l'attore e non è un qualsiasi pelato visto di spalle e magari però in faccia proprio non te lo fanno vedere ma ci sta perché effettivamente ho la seconda teoria segnatevi le teorie ragazzi che poi andiamo la prima teoria allora spada laser di Obi-Wan accesa verso quarto episodio la seconda si stavo pensando adesso nel trailer vediamo che stanno assemblando Anakin lo vediamo per l'appunto in faccia lì per il richiamo episodio 3 quando gli metto la maschera solo che lì magari aveva lo sguardo impaurito perché era la prima volta e qui vedere Hayden Christensen con uno sguardo veramente cattivo pronto a uccidere e di nuovo che si mette l'elmo ma questa volta non è impaurito con episodio 3 non è la prima volta questa volta lo fanno ogni giorno per andare in giro a spaccare i culi ci sarebbe con magari proprio la stessa inquadratura per citarla e lui appunto che la differenza c'è lo sguardo e magari il colorito perché sarà un po' più ingrigito passami il termine però sì questo sarebbe un bel se proprio ti devi giocare appunto la ripresa del volto è un bel modo per giocarselo questo mentre ho un'altra affermazione qui Gabri Doria che ricordiamo che è anche la spada di Anakin qui per chi sta seguendo per l'appunto ormai l'analisi del romanzo di John Jackson Miller il mercoledì la trovate su YouTube quella abbiamo già parlato che effettivamente Kenobi nel Legends ogni notte prende sta spada la guarda ed ho ricordo di Anakin quindi è lì che fa io questa spada ce l'ho io ho letto da costruirla abbiamo passato molto tempo insieme guarda com'è finita smetterà di tirarla fuori la metterà nel baule prima di darla a Luke una volta scoperto per l'appunto che Anakin non è morto è diventato quell'essere oscuro quindi io anche qui lo vedrei ancora una volta primo secondo episodio la notte che parla da solo che parla Qui-Gon guarda la spada e la ripoggia nel baule poi la nasconderà per sempre in effetti quando prima ho detto della sua spada che magari è potrebbe in effetti farlo con quella di Anakin che è più anche più evocativa perché come è stato tu anche perché l'arma di Anakin ormai è importantissima nel senso che ok è l'arma effettivamente di Anakin ci siamo affezionati con i prequel è l'arma di Luke di Luigi Origina ci siamo affezionati è l'arma di Rey è l'arma di Rey esatto quindi anche per essi per loro un collegamento che non possono perdersi devono farci vedere questa spada per tutti diciamo le varie generazioni che han seguito Star Wars e per venderla di per vendere il gadget io qui immagino sempre che loro in realtà soprattutto quelle più non quelle belle da 300 400 euro ma quelle più economiche che loro in realtà l'hanno stampate ancora nei anni 70 quindi dobbiamo rivenderle come fai? cambia un po' il colore ci hanno i fondi di magazzino io credo così cioè la linea di Kenobi dell'Asbro quella del 2002 dell'attacco dei cloni ho visto che poi hanno fatto altre versioni è la stessa cambia leggermente è vero cambia magari una volta usciva a più pezzi l'hanno diminuiti è più corto eccetera però il manico è quello è cambiato di suono è cambiato al massimo ci sta ci sta questa è una teoria interessante mi formerò infatti ho sempre pensato io spero di rivedere un Vader minaccioso e potente come quello visto alla fine di Rogue One semplicemente spettacolare sarà un po' meno io credo un po' meno ma comunque un Vader che ricordiamo ce l'abbiamo visto in Jedi Fallen Order ecco quindi su quell'aspetto cioè più potente di Jedi Fallen Order è già lì ragazzi era bello tosto là è bello perché te lo fanno vedere un po' ripreso dal basso quando combatte con Jedi che ti fanno vedere proprio la potenza e il suo peso proprio a livello fisico la sua potenza quando tira quei fendenti con la spada tu senti proprio la forza cioè a un certo punto fa pure così mi pare proprio col braccio ma anche con la spada proprio di pom e fa volare Jedi no Jedi e quindi la tu vedi la minacciosità insomma di Darth Vader quando combatte è appunto il suo sede di combattimento più macchinoso più pesante però proprio pesante nel senso di forza cioè c'è tanta forza non solo la forza con la F maiuscola ma con la forza fisica e vabbè e la sua abilità con la spada che è è altissima comunque e anche lì tra l'altro nel parare eccetera ripensando al gioco effettivamente noi parlavamo prima di un Vader che non salterà e non salta per l'appunto nel gioco ormai ma tu quando sei Calcestis lo vedi arrivare ti metti a correre a scappare il più velocemente possibile abbiamo un Darth Vader che cammina cammina arriva verso di te è incollato al suo lui cioè nel senso che boh però sa sempre là minaccioso e questa è l'inquietudine infatti che trasmette secondo me che il personaggio lui ormai non è più impulsivo come quando era Anakin è una macchina che va costante piano perché ha tutto ormai sotto controllo o almeno da questa impressione ormai è che mi piace il commento di Giacomo non ha bisogno di correre tanto è potente in effetti ormai è potentissimo è la corsa che va da lui cioè sono gli avversari oppure lui li prende strangolando e li mette in ginocchio davanti a lui come fa col povero Calla appunto mentre al Bong chiede a Moby Wan di chi tiene i te nel canon non si sa attualmente non si sa non sono sicuro però se magari lo hanno eccolo qui ha scritto lo hanno riconformato grazie Giacomo Steve John perché effettivamente e lo hanno trovato lì a tre anni lo dicono in maestro e apprendista in quello nuovo che non ci avevo pensato che poi hanno fatto la versione canon di questo romanzo e lì viene citato effettivamente mi dispiace perché avevo teorizzato già fosse tipo dell'Abruzzo o qualche regione italiana così ho più anni invece Giacomo mi è andato a spegnere tutte queste storie è un cognome effettivamente italiano che no che no stavo guardando però di questo pianeta non sappiamo niente se non come ha detto per l'appunto Giacomo che è il pianeta natale di Kenobi tra il 32 il 29 e BBY quindi prima cioè non sa dove sta nell'universo l'esterno interno medio non si sa stavo guardando però no effettivamente non dicono niente viene citato nel journey della minaccia fantasma solo menzionato e in Age of Republic Obi-Wan Kenobi nel fumetto non mi ricordavo però sappiamo poco purtroppo è qualcosa che magari andremo a esplorare è comunque fantastico sapere e quindi ringrazio no però è bello la cosa bella di Star Wars è che a volte sai pagine e pagine di informazioni su pianeti relativamente importanti relativamente intendo poco e poi non sai la specie di Yoda e non sai il pianeta natale di Obi-Wan per esempio però va così ci sta è fascinante questo tornando avanti invece con l'anamese del trailer che poi riprendiamo con le domande che hanno viste altri ragazzi veramente interessanti abbiamo di nuovo gli inquisitori tre inquisitori abbiamo Moses Ingram che è la terza sorella il grande inquisitore che è Rupert Fliand e il quinto fratello Song Kang li vediamo arrivare con la loro nave per l'appunto mezzo alla piazza di Tatooine e non lo so ragazzi io continuo ad avere un po' di sono un po' restio verso questo design del grande inquisitore anche del quinto devo dire del quinto fratello più li vedo più mi sembrano un po' troppo questi effetti prostetici un po' troppo plasticosi mi ricordano molto ho visto da poco con Matioschi e ragazzi X-Men Apocalypse mi ricordano quel brutto trucco prostetico di Oscar Isaac si vede che è un po' plasticoso a me va bene anche che non sia uguale ai Po 1 visti in episodio 3 visti effettivamente in Rebels perché come Ahsoka che ha i lecco più corti l'attore deve essere in grado di muoversi però non lo so c'è qualcosa che gli mancano gli occhi gialli al grande inquisitore c'è qualcosa che da vicino fin da lontano gli dico ok ci stanno ok sono interessanti li inquadran da vicini qualcosa non mi piace non riesco a farmi di piacere tu Diego sei più positivo rispetto a loro? allora io quando c'è stata tutta la polemica sul design nel grande inquisitore sono stato un po' esterno vedevo un po' cosa diceva la gente effettivamente qualcuno diceva però avevano già vi fatto vedere la specie in episodio 3 potevano basarsi più su quello che magari erano più somiglianti eccetera 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 anche se in episodio 3 spezzo una lancia in favore effettivamente di questo in episodio 3 noi lo vediamo e l'attore che tra l'altro ha fatto Mad Max il secondo se non sbaglio Signore degli Anelli cioè parecchie cose che voi guardate quell'attore è un ottimo caratterista va lì a parlare che no mi è completamente statico non può muovere la testa è impalato è così che fa non posso perché Grievous qui non posso parlare però si muove appena appena e vedere il grande inquisitore che arriva è spaventoso e si muove così mi farebbe un po' ridere no no infatti infatti io poi dopo ho detto però sai guarda 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 il problema è un altro appunto come hai detto tu gli occhi gialli quello veramente mi dà quasi fastidio per vederlo con gli occhi neri perché quello è più che la forma della testa eccetera eccetera e tu ti si trasponi una serie animata a serie live action le fattezze le gambe è successo anche con Cad Bane e va bene e comunque Cad Bane secondo me ci stava come trasposizione qua proprio non capisco questa cosa degli occhi gialli se si è rifiutato d'attore o se proprio loro non l'hanno non l'hanno preso in considerazione è stata una svista incredibile perché tu te lo ricordi proprio il grande inquisitore dagli occhi secondo me lo sguardo dava quel senso di inquietudine ma lo dava per gli occhi per il suo sguardo che era veramente inquietante so proprio degli occhi malefici che che invece neri da umano non è come un umano allora Avengers più forte che ci salutava anche prima mi ero perso il suo commento grazie mille per essere qui di nuovo con noi per essere tornato e per l'abbonamento ci chiede Diego se secondo noi è più brutto lo Yoda di Rebels o il grande inquisitore di Kenobi Rebels però è un po' come l'anno e chi ne direbbe ovvero sì ok bruttini però c'è uno stile sarà perché appaiono veramente pochissimo entrambi Rebels non mi ha mai pesato troppo tanto che le critiche a vederli la prima volta ho detto ok strani poi le critiche però l'ho viste quando sono mi sono poi andata a interferire con la community è che il grande inquisitore è più che brutto io lo guardo in faccia e vedo una persona pelata e grigia no quello che dice effettivamente sugli occhi è quasi un'entità demoniaca perché gli occhi esatto effettivamente noi esseri umani ne ho parlato un po' con Alien di questa cosa l'Alien lo xenomorfo non ha gli occhi e per questo motivo ci fa terrore perché noi guardando gli occhi anche se tu mi guardi negli occhi e noi esseri umani abbiamo un contatto quindi capisco se sei benevolo se sei malevolo hai buone intenzioni cattive intenzioni in base allo sguardo cioè quando uno è arrabbiato tu lo vedi dagli occhi quando uno cioè gli occhi sono dicevano gli antichi lo specchio dell'anima dell'anima effettivamente in qualche modo è vero quindi quegli occhi gialli trasmettevano questa inquietudine vederlo anche perché mi pare che non erano solo gialli ma anche la pupilla aveva una forma diversa no? se non sbaglio sicuramente se l'attore è stato molto bravo con la caratterizzazione potrebbe essere comunque inquietante poi bisogna vedere alla voce in italiano come verrà doppiato eccetera eccetera sono un po' così quindi sono curioso di vederlo di vedere la versione finale ma un'occasione spregatissima anche perché io non so magari si è rifiutato l'attore ma passano delle lenti con gli occhi come con una soga Rosario Dawson che ha messo le lenti per fare gli occhi azzurri e tornando invece al trailer abbiamo Owen come ho detto prima che sta parlando con Kenobi nei fumetti il loro rapporto noi lo vediamo tra un po' di tempo a qualche anno da qui è molto più drastico ovvero proprio Owen Lars non ce la fa più è stufo lasciaci stare Kenobi basta ti ho detto che il bambino non lo addestri qui c'è ancora un dialogo invece che sembrano non dico in buoni rapporti però c'è un po' di rispetto cioè Owen Lars gli dice chiaramente non ti lascio addestrare il bambino guarda come è destrato suo padre non te lo lascio fare cioè e infatti Obi-Wan sentirsi dare questa frecciatina abbassa un po' lo sguardo e vediamo nei suoi occhi se hai ragione questa cosa mi traumatizza ancora nel libro di John Jackson Miller viene detto viene detto che nel Legends per l'appunto un anno dopo qualche mese dopo episodio 3 Owen Lars non vuole che Kenobi vada alla fattoria non vuole assolutamente di fatto tu mi hai dato il bambino il bambino ora appartiene a me devo proteggerlo tu stai lontano da qui perché se qualcuno ti segue vengono qui ci fanno fuori se qualcuno dell'impero ti scopre guardano i tuoi spostamenti ti trovano scoprono che il figlio di Anakin vengono a prenderselo se i Tusken ti vedono che tu sei un pazzo che gira nel deserto vengono attaccano in questa fattoria hanno già rapito Schmidt Skywalker non voglio che portino via anche il bambino mia moglie o me se un cacciatore di taglia ti segue arrivano dal bambino stai fuori dalla mia proprietà non voglio più vederti ed è la spiegazione del perché per l'appunto nel Legends Kenobi osserva Luke da lontano col binocolo dalle dune qui noi lo vediamo che lo osserva col binocolo da lontano però non c'è ancora questo conflitto che poi canonicamente ci sarà nei fumetti probabilmente Owen e Obi-Wan si parlano ancora qui succederà qualcosa cacciatori di taglie inquisitori che stanno seguendo Obi-Wan Kenobi eccetera sarà il momento in cui veramente Owen Lars dirà basta le tue cose cavolate da Jedi non voglio saperne hai messo in pericolo Luke la tua missione era proteggerlo l'hai messo in pericolo non ti voglio più vedere e da allora per l'appunto farà quelle leggere comparsate nei fumetti per vedere Luke ogni tanto ma qualche volta giusto pochino qui secondo me da come comunque l'ho visto nel trailer Owen non mi sembra gli abbia fatto troppo brutto Kenobi ti ha detto guarda no non mi sembra il caso però il rapporto non è ancora così incrinato come sarà tra un paio di anni allora sì prima di tutto anche il Rebels si vede anche lui che l'ho servato lontano gli occhi così che non lo vediamo per quanto è piccolo in quello stile e quindi si riconferma questa cosa a me ha dato l'impressione come di quella di quella persona che aspetta di incontrarti in giro per ricordarti qualcosa loro lì sono nella effettivamente non nelle loro zone ma sembrano essere in una cittadina che adesso non so bene qual è io infatti sto pensando che qui abbiamo Pika Oasi è molto lontano Anchored che dovrebbe essere il punto che raggiungerà Kenobi per partire dal pianeta abbiamo vicino qualcosina Pika Oasi non so se sarà il luogo canonico in cui si ritrovano comunque una sorta di avamposto di Oasi in cui loro saranno lì vicino comunque devono comprare qualcosino ogni tanto anche ai Lars sì sì ecco quindi magari potrebbe essere che Kenobi approfitta di una situazione del genere per parlare con Owen quindi Owen non è che gli è andato lì in casa a romperli l'ha incontrato semplicemente così nella città quindi ci sta che gli parli ecco ovviamente il passato però lo fa comunque rispondere in quel modo e io mi è venuta una riflessione su guardando il trailer perché la prima volta che ho visto quella scena ho detto ma davvero Obi-Wan è così stupido da voler impuntarsi ad addestrare il look poi ho detto ok Obi-Wan non è che davvero è così stupido l'ha effettivamente fatto in episodio 4 dove dice tu si aveva paura che tu ti avresti unito al vecchio bene una delle mie crociate idealiste e comunque gli dice vieni con me vieni con me ad Aldera eccetera eccetera effettivamente Obi-Wan noi ci dobbiamo per quanto noi possiamo guardare di staccati e possiamo considerare una cavolata tutta la cosa dell'ordine Jedi hanno fallito eccetera eccetera Obi-Wan ne ha fatto parte cioè nel fallimento dell'ordine Jedi in tutto quello che è successo di drammatico in episodio 3 lui è stato una parte anche fondamentale perché pure lui insieme a tutti gli altri è stato ingenuo nonostante sia molto saggio non è stato abbastanza saggio da evitare quello che è successo e quindi mentre Ahsoka che era rimasta bruciata dall'ordine Jedi in The Mandalorian si rifiuta categoricamente di addestrare Grogu come Jedi perché lei lei stessa ha lasciato l'ordine non ci crede più Obi-Wan no nonostante abbia fallito con Anakin magari appunto pensa solamente che è morto ok è andata male con lui ma Luke deve essere addestrato lui dice must pure in italiano dice deve lui dice in italiano dice devo addestrarlo in inglese dice deve essere addestrato però è ovvio che chi lo addestra lui che sta là e che lo guardano quindi effettivamente è anche coerente col suo personaggio questa cosa di volerlo addestrare quando avrà l'età perché è da è da Jedi si si assolutamente perché comunque il piano che avevano quando hanno diviso i due gemelli era quello cioè Yoda effettivamente gli ha detto prendiamo la bambina cambiamola il cognome diamola a Bail Organa che poi lei la vera nostra speranza sarà addestreremo e cosa facciamo nel bambino Obi-Wan ha detto guarda io vado con lui perché se no chi è che lo protegge questo povero Cristo se tu Yoda vuoi addestrare Leia che lo scopriamo anche da un certo punto di vista nella raccolta di racconti in cui dice l'altra speranza la principale di Yoda era per appunto Leia e invece Luke era quello che voleva addestrare Obi-Wan perché effettivamente secondo lui era Luke il prescelto secondo Yoda era Leia semplicemente Qui-Gon in Destiny dodicesimo episodio della sesta stagione ha detto a Yoda non era Anakin prescelto c'è un altro Skywalker e loro scoprendo che per l'appunto c'erano due gemelli hanno detto ok è uno dei due su quale puntiamo puntiamo sulla bambina che è più simile alla madre Yoda è partito con un po' di sessismo però era con la sua no è che proprio io ci ho rilevato la differenza proprio di personalità per esempio con un Calcestis che pur essendo più giovane lui è un padawan che ha vissuto sulla sua pelle le conseguenze dell'ordine 66 se l'è passata molto male e spoiler lo dico e alla fine del gioco invece di andare di partire per l'universo a cercare questi piccoli addestrali dice il loro destino sarà affidato alla forza rompe l'ologron molti ci sono rimasti dicono ok tutto il gioco ma invece secondo me è una sua cioè è l'arrivo di tutto un suo percorso cosa che Obi-Wan magari potrebbe fare io me ne vado da Tatooine il destino di Luke sarà affidato alla forza farà il contadino tutta la vita no lui non è così lui vuole addestrare Luke perché è un maestro Jedi cioè è così è proprio il suo carattere è quello sono d'accordo infatti se Calchestis comunque ha visto anche altri Paduan cadere al lato scuro che poi diventeranno gli inquisitori per ora comunque c'è questa cosa in Kenobi che lo muove Kenobi va avanti per un obiettivo io perché sono qui in esilio io lo dice anche io lo dice anche che gli dice anche Maul che dice tu hai qualcosa qui perché sei qui hai un proposito quindi sì effettivamente è così la sua vita ai 19 anni che passa da episodio 3 a episodio 4 sono quelli proteggere Luke e addestrarlo andando invece di nuovo su Nur questo è luna di Mustafar noi vediamo Mustafar che è completamente lavica anche se poi inizierà con la storia di Vedersi Immortal a diventare un po' più cenere e poi cresceranno anche degli alberi come vediamo in episodio 9 la luna Nur è molto diversa da te che noi la vediamo in Jedi Fallen Order c'è un'oceano alla fine cioè effettivamente noi nuotiamo su questo pianeta e la base dell'inquisitorio ha subito un brutto colpo per colpa di Calcastis qui noi vediamo che ci sono varie citazioni per l'appunto agli inquisitori di Rebels vediamo i Purge Trooper e per l'appunto i Trooper addestrati per combattere con l'Elettro Staff e quindi tenere testa anche alle spade laser dei Jedi ma la cosa che mi è piaciuta della fortezza dell'inquisitorio e chi mi ha fatto anche pensare un po' sono quelle pod escape quei gusci di salvataggio che vengono eiettati apparentemente dalla cima della fortezza davvero? non so come mai cioè è veramente evocativa la scena però non so come mai gli escape pods di quel tipo mi vengono in mente il colosso visti per l'appunto i Star Wars Resistance che lì il colosso in realtà è una nave sembra una grande piattaforma nell'acqua un po' come in questo modo però in grado di volare quindi ha degli escape pods che possono andare anche sott'acqua qui questa via di fuga perché? e io ho pensato a meno che effettivamente non vengano eghittati fuori dall'orbita del satellite della luna ci sia non so una nave mettiamo quella di Darth Vader e da lì partono però di più non so dire effettivamente ricordo un po' altre citazioni di Rebers per l'appunto se vogliamo la fuga dell'impero colpisce ancora all'inizio con gli escape pods lo so però mi sono chiesto cosa potrebbe accadere a meno che non siano in realtà delle mini navi quindi magari da lì decollano o comunque vengono lanciate perché magari devono appunto raggiungere l'atmosfera e poi una volta in atmosfera possono essere comandate come dei cacciomonoposto oppure ancora un'altra teoria non mi è venuta proprio in mente adesso sono i caccia degli inquisitori che vengono lanciati e poi si aprono non lo so qualcosa ci ho pensato anch'io però mi sembra molto tondeggianti mi ricordano da quella immagine che si vede molto degli escape pods normale qui siamo abituati quindi l'unica proprio che a me viene in mente come hai detto tu ora è che vengano eiettati fuori dall'orbita del pianeta siano non so magnetizzati passa una nave dell'inquisitorio li prende e loro entrano in questa magari un modo rapido per partire perché effettivamente nella fortezza dell'inquisitorio un ascensore per lo spazio un ascensore verticale perché non c'è un hangar cioè noi non vediamo un hangar nella fortezza dell'inquisitorio al mondo arriviamo in Jedi Fallen Order non c'è esattamente un hangar in cui tu arrivi qui potrebbe essere interessante questo un po' all'elo gli eljumper che cadono dall'orbita qui al contrario escono dall'orbita mentre Carlos fa notare che Purge Trooper hanno un design modificato ok non ho notato questo è leggermente modificato però anche qui ci sono due questioni questione pratica gli attori devono muoversi ed effettivamente quindi togli dei pezzi maggiori che nel videogame ok fa figo vedere questi dettagli magari poi nel combattimento è meno propenso per lo stuntman ma soprattutto ricordiamoci che sono passati 4 anni da Jedi Fallen Order quindi è normale che l'armatura come da episodio 3 dei cloni iniziano a diventare più simili a quelli degli Stormtroopers fino a diventare quelli di episodio 4 anche i Purge Trooper hanno una leggera modifica abbiamo invece a un certo punto una specie di monitor che mostra Obi-Wan Kenobi Obi-Wan Kenobi come era in episodio 3 ci sono delle scritte in Auro Bash c'è scritto per l'appunto tradotto dall'Auro Bash ricercato Obi-Wan Kenobi qual è il reato commesso alto tradimento abbiamo poi sotto taglia per essere catturato quindi pagano se lo catturano perché alto tradimento perché tutti i Jedi che per l'appunto sono morti nell'ordine 66 erano accusati di avere complottato contro la Repubblica e contro Palpatine per l'appunto Mace Windu lo dicono nel romanzo se non sbaglio Lost Stars nell'Accademia Imperiale nelle scuole sotto l'Impero anche insegnano che Mace Windu fece iniziare le guerre dei cloni per fare per l'appunto un colpo di stato che poi fallì nel momento in cui tentò di uccidere Palpatine all'epoca cancelliere tutti i Jedi quindi erano parte di questo complotto meno quelli come grande inquisitore che sono diventati inquisitori come Darth Vader che per l'appunto non sanno sia Anakin ma sanno che un ex Jedi che è passato dalla parte dell'Imperatore tutti gli altri sono ancora ricercati per alto tradimento la stessa accusa che a Barry soffi per l'appunto nelle guerre dei cloni alto tradimento pena di morte e quindi bello che qui si è ripreso in questo computerino della ricerca tant'è che dopo dicono scagliatevi tutti malavitosi cacciatori d'Italia e andate a prenderlo e vediamo un droide su un tetto Obi-Wan che nobis spara chi è in più secondo te è Forlom potrebbe è sicuramente un'occasione che possono cogliere questa ogni tanto lo fanno magari tu dici ma no è solo lo stesso modello e poi invece la galassia è piccola e quindi magari è lui e comunque potrebbe essere giustificato perché c'è una taglia su Obi-Wan che nobis grandissimo Jedi accusato di alto tradimento magari una taglia altissima quindi potrebbe anche essere lui perché no io penso che sia lui per un motivo cioè più che per un motivo sarebbe interessante che fosse lui per un motivo perché per l'appunto vederlo qui che lavora per l'Impero e che dà la caccia per l'appunto a un Jedi quindi come hai detto tu una persona di alto rango magari ricercata da Darth Vader degli inquisitori allora ha senso anche che noi lo vediamo in episodio 5 l'Impero colpisce ancora quando gli chiedono di dare la caccia un solo e dico ah ok Forlom che ha lavorato per l'Impero ha già comunque contribuito o meno a ricercare dei criminali importanti ecco fa background esatto e quindi secondo me potrebbe essere un buon utilizzo mentre Newt fa notare quanto Obi-Wan abbia una forza di volontà assurda tant'è che è rimasto sempre devoto al lato chiaro e all'ordine Jedi nonostante tutto quello che ha passato nel suo percorso come cavaliere infatti a me ne parlavo questo con dalle croniche di Rex mi avevano invitato per la diretta e molti dicono che lui mi diceva che quando fa i cosplay eccetera molti dicono che Obi-Wan è il Jedi di perfetto quindi ci sono affezionati e io con lui abbiamo effettivamente argomentato che anche lui la pensava come me Obi-Wan non è il Jedi perfetto Obi-Wan ha fallito più e più di una volta ma quello che lo rende affascinante ai miei occhi è che nonostante abbia fallito nonostante cada comunque ha questa forza di volontà incrollabile di tornare a rialzarsi di mantenere il sorriso perché dopo che ti uccidono il maestro dopo che ti uccidono la tua amata Satin dopo che hai perso il tuo apprendista finito al lato scuro dopo che la repubblica la democrazia è caduta eccetera cioè non hai più voglia di ridere sei un vecchio pazzo nel deserto dovresti essere burbero e invece no mantiene questo spirito questa forza che il fallimento ha marchiato la sua vita però lui continua a sorridere alla vita perché dice no c'è di più c'è la forza quindi io ho fiducia la mia vita doveva andare così è andata così poi sempre dal trailer vediamo abbiamo detto per l'appunto questa camminata io credo che sia una sorta di hangar dell'inquisitorio ci sono un po' di stormtroopers infatti l'armatura adesso è cambiata siamo molto più vicini a episodio 4 che è episodio 3 vediamo gli elite troopers i purge troopers dell'inquisitorio mentre c'è una scena apparentemente nel deserto vicino sandcrawler sembrerebbe la parte posteriore di un sandcrawler o di un mezzo comunque del deserto in cui Obi-Wan spara ci siamo concentrati tutti su due cose Obi-Wan sta usando blaster queste armi rozze incivili incivili dietro di lui alla sua sinistra quindi qui dietro c'è uno stormtroopers deceduto o è straiato per terra comunque ha subito un colpo dall'altra parte si vede poco c'è un droide sonda dell'impero quindi io credo che l'abbiano mandato a guardare e in qualche modo abbiano filmato Kenobi da lì a parte della sparatoria ha disattivato quello sono arrivati gli stormtroopers e hanno sparato perché credo che sia un sandcrawler come quello dei Java perché sarebbe un chiaro riferimento episodio 4 quando per l'appunto Luke arriva da Kenobi fa sono stati Tusken a sparare a uccidere Java fa no questi sono colpi dell'impero perché loro sono precisi gli stormtroopers e allora qui avrebbe senso gli affi già affrontati nel deserto qui vediamo la scena visto i colpi come erano precisi ed ecco perché poi dirà quello a Luke tra dieci anni tra nove anni in effetti è un richiamo diretto anche a livello di contesto di ambiente potrebbe dire ancora meglio quello che dice Luke avendo visto una situazione simile proprio con lo stesso scenario e a sto punto spero che in quella scena gli stormtroopers ovviamente non lo ammazzeranno però magari si fanno vedere veramente molto precisi non so in che modo magari lui si deve coprire molto ha difficoltà a sfuggire a quella situazione scappa per il rotto della cuffia essendo che comunque lui ha un blaster che sembra una pistola quindi potrebbe essere benissimo in minoranza cioè sicuramente lo sarà perché comunque è uno quindi sarà bello vedere anche quella scena e vederlo usare un'arma incivile e magari alla fine la buttare mi fa si lascio anche io che la guardo e faccio così tira proprio via e buonasera a te angelo grazie mille per essere qui e goderti la live un piacere averti con noi mentre voglia dice bello vedere obiwan usare il blaster per quasi tutto il trailer invece della spada uno ricercato e non può usarla due e soffre perché un'arma incivile esatto io infatti prima ho fatto due scommesse due scommesse una riguardo obiwan che userà la spada soltanto nel quarto episodio esclusi il flashback ma la sua spada nella linea narrativa sarà dal quarto episodio e l'altra su Darth Vader come quando mostreranno la faccia di Aiden Christensen e tornando vediamo l'attore Kumail Nanjani che è quello che ha fatto se non sbaglio Eternals io qui non ho ancora capito si vede proprio velocemente ma sembra usare degli abiti Jedi quindi è un Jedi io da qui ho pensato che magari lui sia andato a chiamare in qualche modo Kenobi perché lei è in pericolo perché c'è qualcosa da dover fare anche perché abbiamo questo nuovo droide che è carino è fatto un po' per vendere che secondo me è un droide un po' per un bambino cioè per una bambina per lei è un droide molto curato c'è sotto gli occhi adesso lo sto proprio guardando adesso è una sorta di disco volante però è troppo pulito per essere un droide di Tatooine è un droide che lo vedrei bene girare attorno a una principessa per l'appunto lei organa anche perché mi ricorda un po' fatti meglio quei droidi che filmano nel senato galattico durante i prequel secondo che c'è un vedete lì capire Demi Silberic grazie mille per il saluto grazie mille per l'abbonamento avrei molto da recuperare nel serale perché è uscito un ottimo dibattito tra me e Diego quindi sono molto soddisfatto di questa puntata che stiamo portando avanti perché stanno uscendo di quelle discussioni ottime quindi buon recupero e a più tardi ti mando un grandissimo abbraccio e effettivamente è pulito ricorda come tu dicevi Diego quelle videocamere droide videocamere sì io quindi direi un droide del nucleo centrale questo Coruscant Aldera Gianna Bunor non lo vedo la prima cosa che mi viene in mente è un droide di una bambina noi vediamo questa mano che non è grandissima direi mano femminile non so se è una bambina o comunque magari un'inquisitrice però dalle dita una mano femminile effettivamente anche io ho avuto la sensazione di a parte un aspetto giocattoloso quindi già in questo senso infantile e piccolo proprio a livello di dimensioni un droide minuscolo però allo stesso tempo non una sonda eccetera ma sembra un droide senziente però si potrebbe essere il nuovo il paletto di Bolle e conferma che è Kingo di Eternals l'attore è lui e e quindi sì sembra un un droidino d'accompagnamento un compagno come un BT1 di Jedi Fallen Order però ancora più piccolo quindi ci sarebbe per un bambino o una bambina e ho avuto anche la sensazione è troppo colorato rispetto a questo contesto che non sembra appartenere a questo contesto anche perché risalta molto quando lo vedi ti spezza un po' e secondo me il trailer l'inquadratura perché lo vedi molto acceso molto plasticoso pulito e quindi anche questa questa cosa hai detto tu che sia di un pianeta più dell'orlo interno e soprattutto sia un droide nuovo proprio come condizione bello lucidato e pulito ci potrebbe stare e comunque è carino come design non ho mai credo mai visto penso infatti a me è ricordato queste videosorveglianze e da qui ho pensato ok là nel senato erano delle sfere qui è più a disco però alla parte davanti che potrebbe essere sia proiettore che per filmare per cosa può usare si apre si apre esatto per cosa può usare e io ho pensato per protezione personale cioè sei una persona una principessa in questo caso nelle mie teorie mettiamolo sempre nelle mie ipotesi questa è la terza ipotesi su lei effettivamente bello organa il padre cosa farebbe guarda non ti lascio girare da sola vai con lui che ti tiene sott'occhio abbiamo le telecamere succede qualcosa abbiamo tutto portato di mano l'allarme ci segnala e quindi sarebbe magari la parte da cui parte tutto perché Obi-Wan deve andare a salvarla hanno visto dove era chi l'ha presa Obi-Wan da quelle informazioni altro ricamo episodio 4 che c'è l'ologramma aiutami Obi-Wan Kenobi qui vedrebbe lei a bambina chiederà aiuto e si è rapita esatto praticamente è il misto tra il cellulare che ti lasciano per essere chiamato quando sei ragazzino la radiolina che lasciano nella culla dei nonati a distanza però in versione di Star Wars quindi super futuristica tecnologica e senziente soprattutto perché sicuramente interagirà interagirà avrà una sua coscienza da droide diciamo come 3D Star Wars e quindi se ne andrà in giro sarà sicuramente carino e sarà sicuramente un accessorio da vendere anche lui come le spade di cui parlavamo prima già me lo vedo Endernik buonasera un piacere ascoltare le vostre teorie mi piace unicamente la fantascienza come genere e Van Bounds in canale questa mia passione per questo genere fantastico grazie mille è un piacere anche perché adesso la fantascienza voglio portarla più approfondita ci ho pensato un pochettino con i romanzi ho detto il prossimo che porteremo di Star Wars l'analisi è l'apprendista del lato scuro molto probabilmente poi guarderemo meglio sulle qualità della votazione per appunto quei sondaggi però ho pensato perché no perché non iniziare a fare qualche analisi anche di Phil Dick o di altri autori comunque popolari della fantascienza quindi se puoi potrà cogliere il vostro interesse un'analisi o due su altri romanzi di fantascienza altri autori per me sarebbe veramente eccezionale tra l'altro oggi abbiamo anche qualche audio degli abbonati quindi andiamo a ascoltare che cosa ci dicono riguardo questo trailer se hanno domande anche loro allora solo un messaggio audio tra l'altro di Carlo che salutiamo e ringraziamo e ascoltiamolo ciao scusate il ritardo per l'audio a me il trailer è piaciuto molto sono contento che vedremo più inquisitori e sebaglio ci sarà anche non ricordo come si chiama la senpai del protagonista di Folia Norte la senpai di Kaino non ricordo mai come si chiama ciao credo la senpai intende il maestro però il maestro è Tapal che è morto io penso che in questo caso intendesse Sire che per l'appunto è quella che in quel momento che sulla nave per l'appunto ormai ha preso il ruolo di figura più adulta perché abbiamo non mi ricordo il nome il pilota ti ricordo che era un po' più scansonato abbiamo lei che era quella più controllata chiusa alla forza e quindi potrebbe essere non so se ci sarà effettivamente non mi sono informato al riguardo ma anche se invece di Sire intendesse Mary nemmeno lì mi risulta comunque non non ho letto di loro di loro presenze o se sono state spottate nel trailer non lo so quindi mi è sfuggito completamente perché vedo che ci sono effettivamente delle teorie che dicono che potrebbe essere lei che hanno mostrato ma ho qualche dubbio cioè ho qualche dubbio ci starebbe anche perché abbiamo detto torniamo al fatto della fortezza dell'inquisitorio l'ultima volta che è stata attaccata c'era lei Sire e c'era per l'appunto Calchestis non so però se si è confermato e che ci manca non so se la vedremo mi piacerebbe vederla comunque in live action ci manca il tassello di mezzo in quel caso se la vedremo in Kenobi perché tra Fallen Order e Kenobi ci sarà Fallen Order 2 quindi effettivamente non sappiamo se ci sarà non sappiamo tu dici che fanno così presto Kenobi cioè già dei Fallen Order 2 secondo me potrebbe essere anche dopo Kenobi ah e dopo dici? non lo so io per la storia farei passare un po' di anni non lo so si chiamerà Star Wars Jedi 2 ragazzi non sappiamo ancora il titolo però io farei passare un tot di anni magari 9 BBY giusto così altri era ambientato nel 14 altri 5 anni 5 anni dopo episodio 3 quindi un anno dopo che no farei 5 anni dopo Jedi Fallen Order 2 quindi un anno dopo Kenobi non so ho questa idea pura intuizione aggiungetelo le teorie se volete ragazzi che poi un giorno andiamo recontrando sono cioè per esempio se ti avessi di quando è ambientato e là sono Fallen Order 2 in dentro non saprei proprio detto ciò io per oggi avrei anche finito perché abbiamo argomentato di tutto la parte finale abbastanza l'abbiamo trattata all'inizio del fatto che secondo noi è un gioco di montaggio però potrebbe essere in quel momento Kenobi che realizza perché sento la presenza di Anakin dovrebbe essere morto un secondo però Hitman Guy grazie mille grazie di cuore e vedrai che avrai tanto da recuperare l'indifferita anche tu mi raccomando segnati tutte le teorie che poi vediamo appena arriva la serie che qui hanno confermato ecco qui hanno confermato 6 episodi la voce girava già da un po' però abbiamo la conferma saranno 6 episodi e quindi l'analizzer Fante Kenobi esatto poi c'è il Fante Kenobi Fante Kenobi esatto Diego l'analizzeremo penso io e Diego praticamente puntata per puntata nel frattempo ringrazio Diego per essere stato qui con me oggi grazie grazie mille grazie a tutti voi della chat per le domande per l'accoglienza per averci seguito e tutto è stato bello spero che la serie sia meritevole guarda vorrei proprio vorrei proprio che fosse meritevole così per parlarne felicemente con voi fare tante storie e avere tanti spunti quindi vediamo vediamo mi voglio mi voglio fidare detto ciò io vi ringrazio ancora ringrazio gli abbonati ringrazio tutti voi che ci avete seguito non ho nessun ride a fare perché vedo che non c'è nessun connesso oggi quindi che la forza sia con voi ciao Grazie a tutti.